La facciata del Museo Classis a Ravenna avrà un impianto di illuminazione ad hoc grazie a Quick Lighting e a Ravenna Festival. L'occasione per inaugurare il nuovo progetto illuminotecnico sarà dopo lo spettacolo di lunedì 24 giugno Le parole e il mare, con l'attore Lino Guanciale e lo storico Alessandro Vanoli, che si terrà proprio nell'ex zuccherificio di classe. Il nuovo museo di classe è un bellissimo edificio che viene valorizzato con questa illuminazione come sagoma architettonica importante del paesaggio di classe. Non solo, ma questa illuminazione fa di questo spazio un luogo adattissimo allo spettacolo, alla musica, alla danza e quindi crea un legame tra contenitore museale e spettacolo dal vivo. Esattamente quello che questo primo esperimento con Ravenna Festival ci porta a fare. L'obiettivo del progetto di illuminazione è... Tirare fuori quella che era l'architettura del museo stesso, della facciata del museo, in modo da rendere dinamico, per questo abbiamo utilizzato un illuminamento chiamato bianco dinamico, quindi la combinazione di colori bianchi diversi che possono permettere, miscelandoli tra di loro, questo effetto quasi tridimensionale che si può avere dall'illuminamento di questa facciata.